20 luglio 1969 l'uomo a terra per la prima volta sulla luna cioè pensate nell'epoca di internet tutti costantemente connessi già dagli anni 60 andavamo sulla luna continuiamo a costruire muri probabilmente le barriere esistono ma sono molto più pesanti e importanti le barriere mentali che andiamo a costruire 1961 gagari arrivo sullo spazio ebbe la possibilità di vedere la terra per la prima volta e disse d'acqua su la terra bellissima senza frontiere e confini probabilmente il futuro dell'umanità non sappiamo se sarà su un altro pianeta o sarà su questo può essere sicuramente migliore se tutti quanti noi insieme ci impegniamo affinché lo sia grazie a tutti